Il mistero nel convento delle Clarisse. Fondato nel 1406 e approvato nella regola di Santa Chiara nel 1431, il monastero ospitò Caterina Verdi, che successivamente fu dichiarata santa nel 1712, nobile Damigella che abbandonò la corte per vocarsi alla religione. Oltre alla santa, nel convento sono sepolti anche altri personaggi famosi, celebri in storia, tra cui Lucrezia Borgia, Ercole II, Eleonora d'Aragona, Alfonso I e la sua seconda moglie. Tra questi c'è un'anima inquieta, quella di Camilla Fa di Bruno, una nobile donna vissuta nel XVII secolo, che infesterebbe a tutt'oggi il monastero con apparizioni e forti rumori, a detta dei testimoni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.